La domanda, tiro fuori, vuoi? Io adesso riprendo solo te, potrebbe essere equivoca, potrebbe essere equivoca e invece qui c'è un amico che oggi ha voluto provocarmi con il prodotto italico prodotto italico, dice questo si è rincoglionito, fa un video a una Fiat ci sono Fiat e Fiat, ci sono cose da tirare fuori e cose da non tirare fuori questa, tirala fuori, per favore, questa per favore, tirala fuori la madre di tutte le Dino, ammazza che macchina ho il motore è tutto in alluminio, è un 6 cilindri, l'è un 12 tagliato a metà l'è un 12 tagliato a metà, ecco adesso, no? eh, ammazza annata, annata che tanto muovi ripio, dice Verdone, no? pensa che desti tempi, già avere fortuna chi se la comprerebbe una cosa del genere? già si sarebbe fortunati se ci fosse uno che se la prenderebbe ammazza che mezzo, d'altronde gli Stefani, sono Stefani, il dottore si chiama Stefano innanzitutto ringraziamo per l'opportunità grazie quanti cavalli abbiamo qua, dottor, più o meno? non lo so, più o meno, massa o meno? 200 cavalli 200? un 200, il toscanaccio ha detto che ha circa 200 cavalli 62.000 km originali ma il motore ne ha 500 adesso, no? 542 542 perché si è rifatto un po' come tutte quelle vacche che si rifanno adesso, che si intiran tutte, no? e quando ci ricapita una cosa del genere, appuntala a spasso con la Fiat Dino uno buzzati in forte ma secondo te, stavo male? stavo male, ammazzalo interno rosso originale this is all original tutto originale unico proprietario per ancora poco tempo perché la sfidiamo questa qua fili e farina qualcosa ci sapeva fare con le macchine questo qua eh? emozioni alla guida di questo oggetto? belle, belle tante belle, è un po' rigida, è una macchina è un po' e ci piace ci piace un po' nervosa a noi eh? adesso ci sarà per fortuna ah no, abbiamo anche le cinture ci sono alcune o Stefanino le hai messa le cinture? no, qui non importa si è c'è la condizionale, no? no, qui è autostorica autostorica si fa guarda che bello anche il volantino legno legno ammazza che bello ragazzi che bello e come dice il presidente color bidet bidet ma ci sono bidet e bidet questo l'è proprio un gran bidet viva la vita viva la vita bella per te grazie il presidente grazie del giro che è una grande opportunità app app